Ciao a tutti, buongiorno, buone... che giorno è oggi? Che giorno è oggi? Andiamo a vedere che giorno è oggi, giovedì 4 maggio. Ho deciso di dare un titolo alla diretta, a questa rassegna stampa di oggi, un titolo forte, ovvero Follia Dilagante. Direte perché Follia Dilagante? Alcuni di voi diranno perché Follia Dilagante, altri diranno che in effetti la Follia sta dilagando. E attento che state collegati per dirvi il perché di questa Follia Dilagante che a mio parere ha superato i limiti della follia umana e sta veramente varcando una soglia, un confine che non dovremmo mai varcare. Ed è quello dell'assurdità e del rischio di una guerra, di una terza guerra mondiale. Le lancette dell'orologio dell'Armageddon sono arrivate a 90 secondi, a 90 secondi dalla fine del mondo, dalla terza guerra mondiale. Intanto ciao Terry, ciao Silvia, ciao Bordoni, ciao Lorena, ciao Raffaella, Licia e buongiorno a tutti. Inizio a vedere i primi collegati. Che dire, che dire. Le notizie di oggi, di ieri, di oggi sono veramente inquietanti. Soprattutto i giornali questa mattina hanno dei titoli che sono da una parte devastanti, fanno incazzare, dall'altra parte fanno veramente paura. Perché purtroppo è la verità, è quello che sta succedendo intorno a noi. E' quello che molti vogliono evitare di trattare come argomento. Intanto ciao Carlo, ciao Margherita. Castellanetta di Taranto è sempre piovoso, per oggi è abbastanza sereno e poco nuvoloso. Carlo Clemente è sempre presente, il numero uno. Abbiamo Margherita, abbiamo Maria Rosa, abbiamo Antonio Pollara. Ciao grande Antonio. Ok, ci siamo, siamo collegati. Allora, andiamo a vedere le prime pagine partendo dal quotidiano più amato dagli italiani. Ovviamente la mia è una battuta, sono tutti amati, quotidiani e odiati allo stesso tempo. Eccolo qua, la verità. Vediamo che dice la verità. Andiamo a vedere amici che dice la verità. La verità dice, in risposta alle pressanti richieste di Zelesky, questa è una follia dilagante. Questo è l'esempio di follia dilagante. E che qualcuno abbia il coraggio di dire il contrario. Aspettate che zoom un po', non ce la faccio a zoomare. Volevo zoomare sulla notizia, ma non ci si riesce. E vabbè, è come se avessi zoomato. Allora, i soldi del PNRR, attenzione, i soldi del PNRR per dare armi a Kiev. Questo è il primo elemento che ha fatto sì che il mio titolo fosse concentrato sulla follia, su questo dilagare della follia in Italia. I soldi del PNRR per dare armi a Kiev, ovvero oltre ai 2 miliardi già attinti ironicamente dal Fondo per la Pace, questa è veramente la comicità, un Fondo per la Pace utilizzato per dare armi, facciamo pena. La Commissione dell'Unione Europea presenta un piano di produzione di missili e munizioni da 500 milioni e passa per il quale sarà possibile pescare anche dalle riserve delle recovery e pur sempre resilienza. Questa è l'Europa, un applauso all'Europa, l'Europa dove siamo finiti, questa è l'Europa dove siamo finiti, dove la follia è dilagante. Il giallo dell'attacco a Putin al Cremlino in questo articolo perché hanno attaccato il Cremlino con un drone. Chi sarà stato? Zeleschi si è defilato. Andiamo a vedere, barche a vela, trucco ONG contro il governo, piccoli natanti, tanto il decreto vieta salvataggi multipli, quindi che però non possono essere mandati in porti lontani, così portano i migranti a Lampedusa che scoppia. Il questore ha un spot vergognoso, levo la gestione alle COP. Attenzione, attenzione, stanno impazzendo con questa questione i migranti e le COP stanno perdendo gli appalti. Forse facendo perdere le COP il dubbio è lecito, smetteranno anche di fare entrare i migranti? Potrebbe essere. Siamo finiti dove volevamo, dice Cristina Lecci, ma sempre peggio, dice Patrizia Amariglioni. Amici, vergogna, dice Frenci Lafrenji. Amici, sconcerto assoluto, dice Andrea Civello. Amici e amiche, i vostri commenti sono molto molto utili, fanno capire la verità. Ci tenta di correre ai ripari, l'intelligenza artificiale spaventa anche Casabianca e Pentagono. Attenzione, la follia dilaga anche sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale spaventa anche Casabianca e Pentagono. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere che dice Libero. Attenzione, la CGL in piazza contro i tagli e le tasse. Questo è il PD, ok? Intanto volevo far vedere queste due facce simpatiche, carine, gentili, educati. Gilei e Nelandini preparano una manifestazione nazionale contro il decreto sul lavoro. Non vogliono che vengano abbassate le tasse ai dipendenti e 100 euro in più negli stipendi. Non vogliono, no. Il PD vuole aumentare le tasse e metterle a patrimoniale. Il dubbio è lecito. Non vuole che vengano fatti sconti a chi ha gli stipendi, ai dipendenti. Il dubbio è lecito. Quello che stanno facendo contro i tagli e le tasse. Il Partito Democratico e i sindacati. Attenzione, due morti, 5.000 a rischio evacuazione, sciacalli sulle miglia. La sinistra profitta dell'alluvione per attaccare il governo. Una vergogna. Invece di pulire i fiumi, sparano merda sul governo. Questo è il PD in Emilia-Romagna. Uno schifo, a mio parere, politico. Due droni sul Cremlino, attentato a Putin. Un attacco con due droni al Cremlino per colpire Vladimir Putin. Attenzione perché Mosca ha detto che farà fuori Zelensky. A questo punto l'unica soluzione per Mosca è fare fuori Zelensky. Potrebbero fare anche una bomba atomica tattica su Kiev. Non lo escludo perché stanno veramente esagerando da una parte e dall'altra. Purtroppo noi, invece di far male, continuiamo a dare armi. Quindi avremo quello che ci meritiamo colpito di politici che non meritiamo. Scandali rossi. Soldi e cop trema il PD. Nel Merino l'inquirenti. L'uso dei fondi della cooperativa di Mauro Laus, deputato. Demi e Torino. Complimenti perché sta venendo fuori la verità sugli scandali rossi delle coppe. Delle coppe, queste coppe che da anni sostengono il PD. Attenzione. Voto blindato. I dubbi della Lega sulla RAI. Voto blindato sul DL migranti. Meloni serve la maggioranza. Cambiamo quotidiano. Andiamo a vedere che dice. Perdonatemi. Il fatto quotidiano. Il fatto quotidiano sarà contro sicuramente il governo. Al contrario degli altri. Esclosivo. Informativa. Investibilità. IPM. Differenze sulle bombe del 1993. La dia sulle stragi. Graviano. Copre. B. Berlusconi. Non vuole tradirlo. Vabbè, tira fuori i temi. Il fatto quotidiano, se non sa di cosa parlare, ovviamente attacca il governo. A volte io approvo i loro articoli. Delle volte Marco Travaglio mi delude. Mi delude totalmente. Tema fuori attualità. Parla di cose che mi interessano a poco. Adesso i temi sono altri. Vabbè, questa è una mia critica costruttiva. Il resto del carlino. Colpito il cremlino. Un incubo escalation. Questo è l'argamento del giorno. Due droni centra nel palazzo dello Zar. Putin non era nell'edificio. Kiev nega di essere coinvolta. Ovviamente hanno paura. È una manovra dei russi. Mosca prepara la rappresaglia. E Mednev uccideremo Zelensky. Il sospetto degli analisti. Qualcuno vuole che la situazione precipiti. Non è solo un sospetto degli analisti, ma di tanta tanta gente. La cosa è certa. Gli analisti dicono che temono che qualcosa precipiti. Però intanto i PNRR, i soldi dei PNRR vengono usati per mandare ancora armi su armi su armi. Artingendo ai fondi per la pace. Fornendo armi con i fondi per la pace. Pensate come siamo messi bene in Europa. Che bella Europa. Che bella Europa che ci hanno portato proprio in una bella Europa. Un'altra alluvione colpita l'Emilia Romagna e due morti fiumi esondati. Io però mi dico una cosa, no? Io mi dico una cosa, ma amici. Sicità fino a ieri l'altro. Due giorni di pioggia, alluvione. Ma forse non è che non hanno fatto una minchia, scusate il termine, in questi anni. Hanno fatto solo delle grandi e inutili chiacchiere. Invece che fare delle ghianchiacchiere, i pidini in Emilia Romagna avrebbero potuto fare delle casse d'espansione. Pulire e bere i fiumi. Preparare tutto prima, perché non è possibile che con due giorni di pioggerellina viene un'alluvione. Dopo aver rotto i coglioni con la siccità. Scusate il termine, ma mincazza, è morta anche della gente. Alluvione perché non fate una minchia da anni? Il dubbio è più che lecito. Scusate il termine, non volevo escurrire. Mi è scappato. Mi è scappato, però col PD ti scappa questo ed altro. Questo ed altro ti scappa col PD. Andiamo a vedere il tempo. Comunistelli su Marte. Il governo ha stanziato dei 13 miliardi in tagli di tasse e aiuti ai lavoratori e famiglie. Ma Shilain e i sindacati non va bene. Continuano a protestare e annunciano manifestazioni. Salvini invita CGL e Cislewil a incontro sugli investimenti. Landini rifiuta anche questo. Landini! Landini! Ci hai fatto sospendere! Non ci avete mai tutelato! Dovete cancellarvi dai sindacati! Tutti! Lo dico alla gente! Cancellatevi dai sindacati! Vi tutelano! Non gliene frega niente degli italiani a questa gente! L'avete capito o no? Mamma mia ragazzi! Andiamo col messaggero. Messaggero che dice droni sul Cremlino! Alta tensione! Ovvio! Follia dilagante amici! Follia dilagante! Follia dilagante! Il resto del Carlino! Colpito Cremlino Incubo Escalation! Follia dilagante! Detto questo io chiuderei la diretta dicendo che siamo alla follia più totale! Il PD che non vuole che vengono tagliate le tasse ai dipendenti che vengono date le tredicesime più alte, meno tasse sulle tredicesime, il PD vuole questo! Il PD vuole tassare i dipendenti, i piccoli imprenditori, vuole tassare la povera gente, il PD! Non vuole sconti delle tasse! Questo è il PD e la CGL! Pensate che cazzo vi siete affidati! Scusate, terza parolaccia di oggi! Terza! Terza parolaccia di oggi! Ma c'è un motivo! Cremlino attaccato con dei droni! E adesso la Russia ha minacciato e uccideremo Zelensky! Sarà sempre peggio! E cosa facciamo noi? Follia dilagante! Follia di totale! Usiamo i soldi dei PNRR per produrre e inviare armi a Zelensky! Ragazzi, follia dilagante! Condividete e commentate quello che non vogliono far sapere! Quello che non vogliono far sapere! Ovvero che stiamo volando in una follia più totale! che ci porterà alla fine economica, forse alla fine fisica! Perché a continuare a buttare armi, buttare armi in questa schifezza, in questa mischia, si finirà forse molto male! Colpa di chi? Colpa di quegli politici che non sono capaci di cercare una pace! Ma cercano solo la guerra, evidentemente, perché questi fanno comodo! Ciao a tutti! Buona giornata!